Un anno dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin non si spegne l'ondata di emozione sdegno che la feroce uccisione della studentessa di Vigo Novo ha suscitato nell'opinione pubblica. Era la sera dell'11 novembre del 2023 quando dopo un pomeriggio passato in un centro commerciale di Marghera con l'ex fidanzato Filippo Turetta non si hanno più notizie di Giulia. Le parole di un testimone che dice di aver sentito una coppia litigare in un parcheggio a Fossò, alcune tracce di sangue trovate proprio in quello spiazzo e le immagini di una telecamera nella zona che registrano l'aggressione di Turetta contro l'ex compagna fanno subito temere il peggio. Dopo serrate ricerche il corpo senza vita di Giulia viene ritrovato il 18 novembre vicino al lago di Barchis in Friuli Venezia Giulia grazie al tracciamento della Fiat Punto di Turetta che intanto prosegue la sua fuga verso la Germania dove verrà arrestato il giorno seguente dalla polizia tedesca lungo l'autostrada per Lipsia. L'autopsia sul corpo di Giulia parla di una morte per dissanguamento dopo 75 coltellate. Il 5 dicembre l'ultimo saluto alla studentessa 22enne davanti a quasi 10.000 persone lo scorso 23 settembre a Venezia si è aperto il processo a Turetta accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà e feratezza, stalking e dall'occultamento di cadavere.